A cinque anni rimasi orfano e andai a vivere con mio nonno, che era solo anche lui. Era un vecchio molto severo. Il nonno viveva con un passerotto, ci parlava, gli dava ordini, lo chiamava. Per esempio, quando era ora del pranzo, vieni. E anch'io lo chiamavo e dicevo, scendi passerotto, che preparate le domande. E lui scendeva qui. Mangiava sul palmo della mia mano e ero così contento perché non l'avevo trovato. Bellissimo. Non mi importa. Ho un altro. Permettemo a madame? Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.